Questo fine settimana stoppa i veicoli e spazio solo ai pedoni su un percorso che dalla stazione Termini arriverà sino a via dei Fori Imperiali passando per il rione Monti. Il nuovo itinerario pedonale Termini i Fori che sarà chiuso al traffico nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 19 partirà da piazza dei 500 e costeggiando le mura serviane, le terme di Diucleziano e Palazzo Massimo proseguirà su via del Viminale, via Agostino de Pretis, via Urbana, via Leonina e via della Madonna dei Monti. Un unico itinerario pedonale per restituire spazio ai cittadini all'insegna di una mobilità attiva e sostenibile. Alla stazione Termini accanto alle mura serviane sarà presente un punto di informazione dove saranno distribuite anche le mappe del nuovo percorso, via dei Fori Imperiali destinazione finale dell'itinerario, per l'occasione sarà isola pedonale sia sabato che domenica, saranno deviate le linee 51, 75, 85, 87, 117 e 118.